Voga 2015, giorno 14. L'argomento di oggi è quale posto, lontano da casa, ti fa sentire come se fossi a casa? La famosa home away from home. E intanto, alle mie spalle non so se si vede, perché non vedo nulla sul display, c'è l'Isola delle Correnti. Sono a Marzamemi, è una giornata calda, però un pochino nuvolosa. Allora, il posto in cui mi sento a casa da una parte è qui a Marzamemi, mi sento molto tranquillo, vengo qui al mare, anche perché è un po' lontano da Siracusa, quindi evito di incontrare i miei clienti, perché non fanno tutta questa strada per venire qui. Qui c'è la casa di un amico, però il posto in cui veramente mi sento come a casa principalmente è Trento. La provincia di Trento ha una piccola casetta a Cadine, che è una frazione di Trento, però in generale tutta la provincia di Trento, le valli, la Val di Non, la Val di Fiemme, sono il posto in cui mi sento un po' come se fossi a casa. Conosco abbastanza bene tutta la provincia, l'ho girata tantissime volte, ci sono dei posti di cui sono innamorato, come appunto la Val di Fiemme, Cavalese, tutto il circondario, Daiano, Carano, eccetera. E insomma questa è, che vi dicevo, la provincia di Trento in fondo è la mia home away from home, il posto lontano da casa, molto lontano, sono quasi 1500 chilometri, dove però mi sento a casa. E voi invece qual è il vostro posto lontano dove vi sentite a casa, la vostra home away from home? Fatemelo sapere con un commento e come sempre ricordatevi di fare like, condividere e iscrivervi al mio canale. Bene ragazzi, vi ringrazio di aver passato, sono Grizzly, questo era il giorno 14, noi ci vediamo domani con il prossimo vlog.